Buona e santa giornata a tutti, buon venerdì. Voglio iniziare questo giorno naturalmente volgendo il cuore a Gesù, non solo per dirgli grazie, perché è iniziato un nuovo giorno e la vita è un dono, anche se a volte siamo messi a dura prova per qualche evento, per qualche fatto, situazione, per la malattia, per il lutto e voglio iniziare con voi questo giorno con un pensiero che prendo da questo libricino di pochissime pagine dedicato a Don Dolindo Ruotolo, un santo sacerdote morto nel 1970, dove la nipote Grazia per la casa editrice Shalom raccoglie i pensieri e vorrei partire dalla carità. E Don Dolindo dice La carità è come un sole che riscalda questa nostra vita, così gelida, così monotona, così piena di spine, perché in realtà noi desideriamo più donare che ricevere. La carità non produce solo frutti temporali, ma produce frutti eterni, perché essa sola è la chiave del cielo e vano presumere di andare al cielo senza la carità e conclude Dio solo, viva Maria! E allora, oggi forse abbiamo ricevuto un bell'invito a vivere di carità, a vivere nella carità, a vivere nell'amore E qual è il pensiero per questo ventitresimo giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesù? Ce lo dice Santa Margherita Uno dei modi più graditi a Dio per consentirci di stare alla Sua Santa Presenza è di entrare nel Sacro Cuore di Gesù e di rimettere a Lui ogni cura di noi stessi conservandoci immersi nell'amore per perdervi tutto ciò che viene da noi perché egli possa riempire questo spazio con ciò che viene da Lui E per imparare a fare la carità dobbiamo guardare solo ed esclusivamente ad un cuore al cuore di Gesù e dobbiamo stare nel Suo Cuore E qual è l'impegno? Nessuna parola di insofferenza, difficile di critica ancora più difficile di lamentela proferita dalla mia bocca ma solo lode al Sacro Cuore che mi dà gioia e speranza per ogni giorno Bene, oggi abbiamo un bell'impegno lodare il Sacro Cuore evitare le parole vane e soprattutto vivere nella carità E la giaculatoria? Guarisci, oh Signore, col Tuo amore le durezze del mio cuore Ripetiamolo Guarisci, oh Signore, col Tuo amore le durezze del mio cuore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro, che sei nei Cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Alla Madonna Ave o Maria piena di grazia il Signore è con Te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Mi affido alle vostre preghiere perché tra poco ci mettiamo in macchina per partire per Tortorici provincia di Messina dove questa sera alle 18 nella chiesa del Santissimo Salvatore celebrerò la Messa e poi la presentazione del libro La Speranza che Cerchi dove qui c'è anche Giuseppe Armeli che abita a Tortorici e protagonista dell'ottava storia del libro Ricordatevi l'amore la carità